Vai Dick, vai! È come se volessero dirci che siamo soli. Soli e indifesi, anche economicamente. Diciamo che questo è il prezzo della tua integrità. Quante ragazze hai messi in regola? 90, 100? Quanti altri l'hanno fatta in Sicilia? Non lo so, ma vedi Nino, io credo che riconoscere a queste ragazze quello che meritano, i loro diritti, significhi renderle libere. E quando uno è libero può permettersi anche di dire dei no. Questo mi costa un po' di più, ma non fa niente. Guarda Dick come si è ripreso. Il veterinario ha fatto dei miracoli. Non lo tieni più in fabbrica? No, non mi va. Però a casa c'è il gatto di Pina. Ma perché non te lo prendi tu? Ma adesso che non hai più il tuo Roxy, Dick ti conosce, starebbe bene con te. Va bene, me lo prendo io. Va bene. E se poi ti manca? Non importa, lo faccio per insommene. A presto. Vi Grazie a tutti